Buon pomeriggio a tutti, buona Pasquetta anche da Nuoto.live, benvenuti a questo nuovo appuntamento acquatico, avremo oggi un'altra grandissima ospite, si torna a parlare di misti, abbiamo avuto la scorsa settimana un grande come la sloce, adesso abbiamo una grandissima azzurra come Idaria Cusinato che sarà con noi a parlare delle sue gesta e anche a raccontarsi un po' fuori dalla vasca su quelle che sono le sue passioni. Cercheremo di tenervi compagnia in questa quarantena come stiamo facendo, avrete seguito i nostri canali Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, cerchiamo di essere un po' dappertutto per cercare di farvi divertire in questo periodo in cui siamo forzatamente a casa e abbiamo tra l'altro lanciato anche un corso di speaker che ci sarà adesso a fine aprile 2023, adesso non mi ricordo le date esatte a memoria ma è stato tutto esaurito quindi anche un altro grande successo, sono contento che ci sia stata una grande risposta anche da parte vostra e adesso siamo in attesa che si colleghi anche Ilaria con noi, così possiamo, vediamo se è già collegata, altrimenti le mando un messaggio ma penso che di solito lei, allora vediamo se ci sei Ilaria, intanto io ti sto cercando qua nella lista dei contatti, vediamo se è già dei nostri, visto che li state già collegando in tantissimi, così chiediamo anche cosa ha combinato in questa pasquetta casalinga, vediamo se c'è, intanto ecco, intanto mentre è mi scrivono giustamente il corso di speaker 21 e 23 aprile quindi vi aspettiamo per questo corso online, ok mi ha scritto Ilaria che c'è, allora non ti vedo io nella lista perché si vede che c'è troppa gente collegata, vediamo se riconosco la tua foto, perché di solito me la mette in alto quando, adesso provo, vediamo se mi mandi tu l'invito Ilaria allora, vediamo se me lo visualizza, perché ogni tanto quando c'è troppa gente collegata, si perde un po', ok ho visto che Ilaria c'è, vediamo con le due faccine praticamente, dovreste riuscire a mandarmi, vediamo se, perché a me non me lo fa fare, ogni tanto il mio iPad di vecchia generazione dà un po' di problemi, altrimenti provo a rinvitarti, riproviamo se me lo fa fare, purtroppo, intanto vi ricordo che le domande potete mandarle qui sotto oppure nel feed, Ilaria non ti vedo, non so se, scrivimi pure se, ma non, allora non riesco a vederti, altrimenti riavvio la diretta e ti invito a questo punto, questo no? Allora ecco adesso mi è arrivato il tuo invito, vediamo se me lo fa visualizzare, allora, lo vedo, possiamo esserci, grazie Ilaria, sei più tecnologica di me, ormai lo vedo che sei sempre sui social, sei una delle nostre fan numero uno, voilà, come stai, tutto bene? Tutto bene, grazie, dai, tutto bene grazie, ti ho visto spesso collegato alle nostre dirette, ti ringrazio che ci hai reso l'onore, ti sei divertita anche a vedere i tuoi compagni, a vedere come rispondevano, ti sei fatta un po' di risate? Sì, stavo guardando, ho guardato un po' tutti quanti, poco magari, altri un po' di più, però sì dai, almeno prendiamo delle iniziative per far passare un po' il tempo, in quarantena, quindi... Esatto, sei riuscito a vedere quella con l'Aslo, visto che si parlava di misti o no? No, con l'Aslo non l'ho vista, però le altre, quelle degli italiani sicuro quasi tutte, quella di l'Aslo purtroppo no. Però lui lo conosci bene, no? Da mistista immagino che l'avrai studiato alla grande. Sì, diciamo che lo conosco, cioè in senso non ci ho mai parlato personalmente, però insomma è l'Aslo internazionale, quindi per forza sì, conosco bene, in quel punto di vista. Ecco. Senti, come va la quarantena? Cosa combini di bello? Sei lanciata in cucina, serie tv, cosa? Allora, diciamo che la quarantena va bene, è stata un po' più dura all'inizio perché, vabbè, ovviamente trovare un po' di più cosa da fare a casa di quelle che facevo prima, però adesso procede molto bene, direi. Mi sono messa a fare un po' di tutto, non cucino, io non sono tipo da cucina assolutamente, però vabbè mi tengo un po' diversa che non avevo mai fatto. Volevo già iniziare sempre a fare Pilates durante ancora il periodo natatorio, però non ho mai avuto l'occasione perché non trovavo un posto l'ideale, eccetera, eccetera. Quindi ho deciso di iniziare yoga a casa con dei corsi online, quindi adesso mi do quello principalmente. Poi, vabbè, faccio anche altre cose. Quindi mi sono messa anche sotto con lo studio, visto che ho molto tempo libero. Cosa stai studiando tu adesso? Lingue. Lingue. Come, oddio, meditazione linguistica. Quante ne parli tu di lingue? Voi nuotatori siete sempre in giro, quindi... Allora, io sono molto appassionata di lingue. Mi piace, mi piace proprio molto studiare proprio la cultura del paese, soprattutto. Quindi non solo la lingua in sé, ma anche magari i dettagli più nascosti della lingua. Io parlo perfettamente inglese, spagnolo e tedesco molto bene. Poi adesso sto imparando il portoghese, quindi sono un po'... Il cinese purtroppo non lo studio più, quindi no, l'ho levato. E vabbè, il dialetto veneto ovviamente, perché quella è un'altra lingua. Bisogna inserirla nel listro. Quella è nel DNA. Esatto. Giapponese per Tocchio niente. Non l'hai, non ti sei messo in giro. Non l'ho ancora incluso, non l'ho ancora incluso. Adesso è un anno in più. Sì, beh, infatti magari posso già iniziarlo adesso, quindi neanche so. Guardi le serie tv in lingua originale, immagino, anche per tenerti un po' allenata, visto che è una cosa che è abbastanza frequente, immagino. Sì, 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 ovviamente, ovviamente. Ne ho finite già due da quando è stata quarantena, quindi... Però non sono troppo attaccata al computer, allo schermo. Mi sono staccata un po' dal computer, altrimenti ci passano le giornate, ci passano le giornate intere. No, infatti anche per staccare un po' è meglio non, diciamo, non fare un po' gli zombie, davanti al computer o... Sì, no, perché sennò ti svegli, stai sul computer tutto il giorno, anche la notte, perché tanto non c'è niente da fare, quindi... Esatto. Ma quale hai finito? Che dicevi prima? Ho guardato... Vabbè, adesso mi sono andata un po' al lato spagnolo, perché ho guardato la terza stagione di Elite, che credo tutti conoscono Elite, e Toy Boy, però è troppo lungo. La Casa dei Papel non l'hai vista allora in spagnolo? No, a me manca. Dovrei iniziarlo, però... Quella te la consiglio, eh? Quella te la consiglio, allora. Poi, per te che sei poliglotta, quella ti piacerà un sacco in lingua originale, merita, merita. Eh, lo so, lo so. Vorrei anche iniziare Narcos, in realtà, e però... Eh, cioè, inizio non finisco più, quello è il problema. Per quello non inizio con le lunghe, perché sennò non è più finito. Però... trovo qualcos'altro da fare. Mi tengo... Senti, in attesa che... Almeno al giardino, sto fuori di casa un po'. Esatto, esatto. Senti, in attesa che arrivino un po' di domande, quest'anno in più cosa cambia per te, in vista di Tokyo, del tuo sogno olimpico? Beh, allora, diciamo che per me, sinceramente, è stata una fortuna che abbiano rinviato le Olimpiadi, perché in questo modo ho un altro anno per assimilare il nuovo lavoro, il nuovo allenatore, tutto quanto. Quindi per me è anche un vantaggio, sinceramente, c'è, devo dirlo, perché non è nascondersi, c'è la verità. E quindi, niente, beh, sono sicura che dopo tutto questo train-tran che sta andando avanti, mi dovrò allenare anche tutta l'estate, quindi sicuro le vacanze di quest'estate saranno rimandate l'anno prossimo, perché finché non ci alleniamo non so quanto potremo prenderci di vacanze quest'estate, quindi, però, insomma, sono contenta di dare invio, perché nel senso è un punto a favore per me, sicuramente. Adesso, insomma, vediamo di lavorare sodo, sicuramente, perché voglio tornare ai livelli del 2018 e sono più che sicura che con gli allenamenti che stavo affrontando fino a prima dello stop forzato, ero, più che soddisfatto, insomma, del lavoro che stavo facendo. Ti senti in forma? Sì, sì, sì. Infatti, Roberto Curti chiede, ce lo racconti un po' quest'anno turbolento, se vuoi, dice. Beh, sì, sì. Allora, diciamo che è stato un po'... Allora, la mia scelta all'inizio anno era stata un po' dettata dal fatto che non vedevo tante prospettive nel territorio, nel senso, come allenatori a livello nazionale, nel senso, io ho lasciato Ostia per un motivo preciso e non è stato per l'allenatore, perché io se fossero stato per il Moro sicuramente ci sarei rimasta ad Ostia. Era... il problema per me era... Un po' con le prospettive... non so come dirlo, però... sì, un po' con le ali tagliate, tra virgolette, non per il punto di vista natatorio, però per tutto il resto. Quindi, per l'allenatore sicuramente non era la decisione di andare via. Cioè, nel senso, non è che ho lasciato Ostia per il Moro. Sì, l'ambiente, dicevi, perché hai saltato un attimo la connessione. L'ambiente, dicevi, era più che la c'era. Ah, sì, sì. È la mia Wi-Fi. No, sto dicendo che era l'ambiente appunto che non favoriva, cioè non mi favoriva, diciamo, non stata da mia parte, quindi per quello ho lasciato Ostia non per il Moro, assolutamente, perché il Moro per me è stato, insomma, l'allenatore migliore di sempre, quindi non mi posso lamentare, assolutamente. E quindi, comunque, non sarei tornata lì. Poi a casa, comunque, con il problema delle strutture, perché comunque la basket da 50 interna non ce l'ho, cioè ce l'ho, però sarebbe mezz'ora da casa, quindi ogni giorno. Cioè, comunque, la mia scelta è stata dettata dal fatto che volevo trovare un allenatore che si concentrasse totalmente su di me e comunque fosse esperto sui misti, sapesse come allenare esattamente una mistista. Quindi, volevo trovare quello. E comunque Shane era la proiezione del mio ideale, quindi io ho detto, vabbè, la vado sul sicuro e vado lì. Soltanto che si è rivalata a una scelta troppo pressante, cioè nel senso, cioè io comunque sono andata via d'oste perché cercavo tranquillità, perché cercavo comunque di spaziare, non solo nuoto tutto il giorno e questo, questo, quell'altro. Cioè, nel senso, comunque, poter andare, non so, all'università o comunque trovare qualche altro interesse durante la giornata, al posto di stare appunto al centro federale, dicevo, con Shane è diventato ancora peggio. Cioè, nel senso, comunque, era una cosa ossessiva. Cioè, il nuoto era qualsiasi cosa durante la giornata, cioè qualsiasi cosa era legata a quello. E quindi, diciamo che per fortuna, mi sono resa conto immediatamente, quindi ho avuto, ho avuto il tempo di riparare subito il mio errore e quindi grazie a Claudio Priamo, che mi ha consigliato appunto Moreno, perché lui mi, insomma, mi ha fatto un discorso. Diciamo, il fatto ha voluto che lui fosse a Lignano, dove io appunto mi stavo andando con Shane. Il giorno in cui io ero a, ho avuto la rottura con lui praticamente, il giorno in cui io ho deciso di andare via dal gruppo, dal gruppo era in quattro, ecco, non è che fosse un gruppo, proprio il trio. Però, beh, insomma, il giorno in cui io e anche i miei ragazzi avevano deciso di andare via, e fortunatamente c'era appunto lì Claudio Priamo, e lui mi fa, guarda, secondo me, per te l'allenatore più giusto, io te l'avrei consigliato fino al principio, prima ancora di andare giù ad Ostia, è Moreno Daga. Io ho preso il suo consiglio, comunque, dato che Claudio mi conosce fino a quando sono, ho iniziato a nuotare praticamente, quando ero esordiente, esordiente neanche, perché non nuotavo esordiente, però, vabbè, da categoria, e quindi, insomma, mi sono fidata di lui, comunque è sempre stato tecnico del team Veneto, quindi, insomma, mi conosce bene, e io direi mi abbia consigliato la cosa migliore. Sei un po' la tua casa al team Veneto, no? Sì, 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 assolutamente. Sì, 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 io sono super legata alla mia squadra, quindi sono stata, diciamo, sfortunata nella sfortuna, però, insomma, è andata bene, quindi adesso con Moreno lo trovo super bene, lui è una persona super gentile, disponibile, lui è super pacato, cerca sempre di venirti incontro, cioè, è una persona proprio che ci tiene più a te che al risultato di quello che porti, cioè, a lui importa più di farti crescere come persona, più che come atleta, quindi, io, niente, in lui ho trovato proprio un mentor, cioè non solo un allenatore, e quindi sono super fortunata, anche il mio ragazzo che si allena con me adesso, che, vabbè, è ungherese, anche lui è venuto a allenarsi con Moreno, e anche lui si è trovato molto bene, infatti, eravamo pronti per gli italiani, per lui per i suoi campionati, però, purtroppo, è andata a cosa. Ecco, il fatto di allenarsi insieme vi aiuta anche, tanto, nel senso di avere qualcuno, il nuoto è sempre uno sport solitario, avere qualcuno come fidanzato, a volte c'è chi ha fratelli o sorelle che nuotano, così, che condividono la passione, quello aiuta un po', diciamo, a dividere un po' la fatica. Sì, 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 beh, per me assolutamente, anche perché comunque viviamo 24 ore su 24 insieme, quindi, cioè, fa parte proprio della nostra routine quotidiana, diciamo, l'allenamento, è una cosa che facciamo insieme, condividiamo, poi, comunque, ci alleniamo sempre fianco a fianco, quindi, cioè, è anche uno stimolo, perché comunque lui fa dorsi, cioè, in senso, quando lui fa dorsi, io faccio stile, perché sennò non gli starò mai dietro, neanche a stile libero gli sto dietro, quindi, comunque, ci spingiamo a vicenda, poi, comunque, quando ci alleniamo in vasca da 50, perché facciamo, andiamo un po' su e giù da Campodarsico, dove ci alleniamo, appunto, al Gabbiano, che è la struttura da 50, che è più vicina dove siamo a Padova, siamo solo io e lui, quasi sempre, perché, vabbè, ci sono, c'è anche Furlan, che appunto si allena con noi, e Leonora Brotto, che è anche lei del team Veneto, e, vabbè, loro magari vengono un po' meno, un po' meno spesso, in vasca da 50, invece noi due siamo sempre insieme, quindi, sì, diciamo che allenarsi insieme per me è una cosa molto positiva, la vedo come, magari tanti diranno che può essere una distrazione, perché ho sentito molte cose parlare, diciamo che potrebbe essere una distrazione del ragazzo anche che nuota assieme a te, eccetera, eccetera, però per me, diciamo, comunque, diciamo che è stato anche lui che ha, mi ha un po' infuso la voglia di riprendere al 100% dopo Shane, perché ho avuto un po' un periodo che ero giù mentalmente, perché pensavo di aver perso qualsiasi co, cioè, nel senso, ho perso tutto, subito all'inizio della stagione, l'anno ultimo. Sì, un po' lo stimolo anche, ti mancava questo stimolo, dicevi? Eh sì, esatto, invece lui è stato quello che mi ha dato, diciamo, lo stimolo per trovare, appunto, anche il nuovo allenatore, perché anche lui, cioè, se non avesse continuato con Shane avrebbe probabilmente mollato nuoto, perché comunque, beh, lui ha 25 anni, va a provare l'ultima Olimpiade, quindi invece abbiamo trovato... Bene, tutto è bene ciò che vince bene. Senti, Simone Magri chiede, ci farai vedere i due stile anche? Sì, sì, assolutamente. Non quest'anno, perché adesso, ormai, quest'anno prossimo, in senso olimpico, mi concentrerò sulle distanze di misti e magari qualche, vabbè, delfino, due rana, sono sempre le carte, i joker, diciamo, i miei jolly. Però sì, l'anno prossimo sicuramente farò anche i due stile, perché mi sono sempre piaciuti, però non ho mai avuto l'occasione di prepararli proprio solo due stile, perché comunque allenandomi tutti gli stili... Perché di solito lo stile mi viene meglio individualmente che nei misti, nei misti è un po' il mio tallone d'Achille, quindi sì, due stile comunque devo assolutamente provarlo bene, quindi sì. Ecco, perché intanto chiedevano, esatto, perché chiedevano anche se ti senti più duecentista o quattro, perché poi dicevano che si ricordavano anche dei tuoi bei quattrocento stile. Sì, 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 beh, io ho fatto, cioè, comunque anche agli italiani ho portato i quattro stile, quindi sia col Moro che anche quest'anno agli invernali così, perché comunque volevo tenere un giorno di allenamento per i giorni dopo che c'erano i misti, quindi a me piacciono anche i quattro stile, soprattutto in Vasca Lunga. E non saprei se sentirmi più duecentista o quattrocentista, perché comunque mi alleno sempre, cioè, non mi specializzo mai per una distanza sola, quindi non lo so, magari il tempo lo rivelerà, però non c'ho una preferenza. Forse nei misti quattro, però la stile non lo so. Prima dici la cosa interessante di duecento stile, esatto, su duecento stile invece hai mai pensato anche in chiave staffetta, cioè ti piacerebbe, tu che di solito fai gare individuali, entrare nei giochi di una staffetta ovviamente è una cosa che può stuzzicarti. Sì, sì, assolutamente. A me piacerebbe tantissimo far parte di una staffetta, perché comunque non facendo uno stile solo non ho mai avuto la possibilità di legare già nel suo interno staffette se non ovviamente nazionali. Quindi sì, sicuramente il due stile sarebbe la carta più facile da giocare. Facile, nel senso, ormai niente è facile, però più fattibile, ecco, perché 4% stile in questo momento non ha molte, non so come dire, molte speranze, ecco. Anzi, vabbè, negli ultimi due o tre anni così non è che ci sia stato chissà che grande risultato al 4%, quindi comunque anche perché io sicuramente velocista non sono. E vabbè, nella mista lascio fare a chi di livello. Senti, ma ci chiedevamo con la redazione, noi appunto, visto che stavamo parlando di questo corso di speaker che ci sarà adesso a fine aprile, quando tu nuoti, visto che nei misti poi cambi lo stile, c'è tanto, è una gara molto intensa, soprattutto il 400 misto, tu ti accorgi di quello che succede fuori, l'ambiente, il tifo, lo speaker, l'allenatore che ti urla dietro, cioè, cosa ti passa nella testa in un 400 misto? Allora, diciamo che io durante le gare non ascolto mai l'esterno, cioè, in senso, non faccio mai caso al rumore esterno, cioè, magari, non so, i fischi dagli spalti o lo speaker che parla, sento solo tanta confusione, nel senso, però non faccio mai caso, non è che mi concentri su quello. A volte mi metto a canticchiare, per quello sì, perché tanto non so cosa fare, perché è infinito, un 4 misto, soprattutto di Mascherunca, però l'unica volta, ecco, questa è l'unica volta veramente che io ho sentito il tifo e l'incoraggiamento del pubblico, ma mai nella mia vita, cioè, che sia stato, non so, un mondiale, un europeo, è stato il 7 colli di due anni fa, durante il mio 400 misto, dove ero praticamente da sola, perché non mi ricordo la seconda quanto avesse fatto, mi pare, 438, che era la britannica, non mi ricordo come si chiama, e io lì ho sentito proprio, cioè, a parte che gli spalti erano super pieni, perché al 7 colli c'è sempre tantissimo, tantissima gente, tantissimo tifo, e poi è bello perché giustamente Roma è, cioè, in senso, è Roma, cioè, l'eforo italico è magico, e io lì ho sentito tutto il tifo del mondo, cioè, poi sentivo lo speaker, sentivo Luca Rasi che parlava, lo sentivo, pure lui ho sentito in quella gara, cioè, è stata proprio, è stata la gara più bella della mia vita, quindi, cioè, in senso, finora, spero di far meglio, quindi... Esatto, esatto, no, quello sicuramente te lo auguriamo, ma, dicevi, cosa canti? Che hai detto che ogni tanto cantichi qualcosa, c'è un motivo tuo fisso, o quello che ti passa per la testa in quel momento, in quel periodo? No, diciamo che non ho una canzone fissa che mi... Però magari mi partono qualche, non lo so, qualche parte di qualche canzone che so bene, di cui so tutte le parole, perché a me piace imparare le canzoni in memoria, no? Soprattutto le parti del rap, così così, che è un po' la mia passione nascosta. E allora mi partono queste, non so, queste strofe, questi soli, non lo so, mi parte di tutto in testa, che a me non saprei neanche definire precisamente, però ho tante cose. Ecco. Senti, Silvia Scappoli ti saluta e chiede come vivi il pregara. Ciao Silvia. Allora, beh, diciamo che pregara per me non è, chissà, nel senso, non è un momento proprio speciale, come tutti lo interpretano, no? La concentrazione, il momento di esplodere, cioè, non so come spiegarlo, per me è anche un momento di divertimento, perché a me piace poi chiacchierare. A volte anche disturbo la gente, mi sa, mi sono fatta tante volte la domanda, ma veramente ti do fastidio perché sto parlando troppo. Però, non so, a me piace tanto perché mi piace caricarmi con la mia musica, no? Io ho sempre le cuffie prima della gara, quindi mi piace caricarmi, mi piace ascoltare la musica al massimo, perché dopo adesso ho comprato apposta le Airports con le nuove, così ho la cancellazione del suono, no? Così sento solo la mia musica, solo quello lì. Perché a volte, soprattutto a Riccione, la musica della piscina, copre un po' la mia, mi dà fastidio. Invece adesso, con queste qui, sono super attrezzata e non sento più niente. Quindi, no, pre-gara comunque è una cosa abbastanza tranquilla. Cioè, per me è un più momento di divertimento, diciamo, di carica. Quindi, è una cosa un po' particolare. Ecco, ma poi tu dici, ti piace scherzare, eccetera, dicevano, non vediamo più i video con Alessia Polieri? Facevi un po' di… Sì, facevo due anni fa, mettevamo un po' di storie, così, nel senso, il nostro rapporto non è più lo stesso, sarà anche inteso, ovviamente, però è stato un periodo così. Agli europei avevano fatti tanti, quello sì, a volte anche troppi, però. Ecco, senti, prima ovviamente hai parlato del rapporto con Tudup, è arrivata proprio una domanda su quello, perché anche la sua cena aveva parlato e ha detto che non l'aveva convinto. Tu come lo giudici, cioè, dicevi, per te, per il tuo modo di fare, era troppo, diciamo, tu avevi bisogno di qualcuno che ti lasciasse una, diciamo, anche una scappatoria dal nuoto, che il nuoto non era la tua unica ragione di vita, nel senso, non era 24 ore, 7 giorni su 7. Sì, sì, esatto. Cioè, nel senso, non che non mi avesse convinto, perché non avesse voglia di allenarmi, o comunque non ci mettesse passione, per carità, perché c'è il suo lavoro, se non fa quello, non fa altro, però. Sì, cioè, diciamo che, appunto, come ho detto prima, io ero andata via d'osteo, perché stavo cercando più tranquillità dal punto di vista mentale, perché comunque, a vent'anni, ho anche le idee molto chiare, io so benissimo quello che voglio fare, quindi, con lui, invece, cioè, qualsiasi cosa, anche nella vita di tutti i giorni, cioè, nel senso, poi vivevamo a Lignano, nel, al Gettur, no? Non so se è presente al villaggio Bella Italia, si chiama. Certo, sì, 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 sì. Insomma, cioè, non è un posto che d'inverno, mamma mia, mi svago, vado in giro, si sa cosa faccio, cioè, no, stai dentro la camera, un po' come ad ostio, e quindi, alla fine, non è che avessi trovato tanto la soluzione, capisci? Era un po'... Insomma, che è stato un po' un paradosso, cioè, ho fatto un po' una scelta che non me l'ero reso conto, veramente, di cosa andavo incontro. Cioè, probabilmente, perché l'avevo interpretato in altro modo, magari pensavo di non dover vivere a Lignano, per esempio, non perché la struttura è magnifica, cioè, per quello la piscina, soprattutto, mi sono trovata super bene, però, magari, avere la mia propria casa, cioè, in senso, magari, vivere nel mio appartamento, così, per dire, andare in una città in cui, comunque, potessi andare all'università, che ne so, avessi qualcuno che conosco, è un esempio. Invece, con lui, comunque, non era così. Cioè, se... Faccio un esempio stupido, eh. Cioè, se io... Ok, per carità, magari arrivavano gli allenamenti alle 5 di pomeriggio, avevo fame. Ovviamente, cioè, magari mi veniva su un po' di fame, era normale, cavolo, mangio 24 ore su 24, non mi puoi dire a pranzo riempiti. Cioè, perché io, dopo, sto male, mi è mal di stomaco. Cioè, cioè, nelle quelle cose, un po'... Capisci? Cioè, collegare qualsiasi cosa del giornata è perché dopo, probabilmente, non hai energia. O, se no, hai male al ginocchio. No, perché non ti prendi cura di te stessa. Cioè, magari non prendo cura di me stessa. Ho male al ginocchio perché alzo 100 kg di scuoto. Cioè, erano quelle cose un po' contrariate, per quello non ha convinto. Cioè, non solo quello. Perché qualsiasi cosa, anche nelle più piccole cose della vita, di tutti i giorni, erano collegate. Ovviamente, c'era persa la connessione. Sì, sì, ok, esatto. Ti avevo perso un attimo, poi ti ritrovo, ecco. No, stavo dicendo... Qualunque piccolo aspetto della vita era legata. Era un po' troppo, diciamo, nuoto centrico. Sì, cioè, nel senso, io stavo cercando l'opposto. Ma non perché io non mi sento atleta o perché non voglio fare la vita d'atleta, ma perché... Ho un po' di problemi di connessione. No, stavo dicendo che, appunto, non è perché non mi sento atleta o perché non mi sento di fare la vita d'atleta, ma è perché so quello che devo rispettare. Nel senso, non ho bisogno di qualcuno che me lo venga a dire. Cioè, in faccia, nel senso, fai questo, fai l'altro. Ho bisogno di... Cioè, era questo che volevo cercare di arginare, invece. Non era neanche il problema perché... Esatto, hai visto che... Cioè, che ormai ti... Prima hai chiesto se si poteva parlare in inglese. Hai fan ovunque, tu. Se una gira a mondo c'era un iraniano. Ti ho visto un tifoso iraniano. L'ho visto, l'ho visto. No, no, ma lui, quello che ha commentato adesso lo conosco, quindi... Ecco. Prossima volta facciamo l'inglese, spagnolo. Facciamo un po' di lingue. Ma non era neanche il problema perché dicevano... Perfect. Allora, dicevano non era neanche il problema della palestra con Shane. Nel senso che lui, per lui, ovviamente, è più importante, ma i due erano un discorso diverso perché dicevano, visto che c'era una domanda adesso che è arrivata. Sì, sì, sì. Cioè, per lui, la palestra è tutto. Cioè, nel senso, nella giornata si iniziava con la palestra. Cioè, un po'... le giornate erano strutturate così. Praticamente al mattino si svegliava alle 5. Io mi svegliavo alle 5.48. Io mi svegliavo alle 5.48 per andare in palestra alle 6. Cioè, non ditemi come facevo. Io volavo perché non ci facevo a svegliare alle 5. Cioè, prendevo sonno. Cioè, sono tanti di quei giorni che non mi sono neanche svegliata perché per me non è normale. Però, vabbè. Allora, palestra è alle 6.00. Alle 9.00. 9.11. acqua. Poi c'era la pausa pranzo. E poi alle 4.00 si tornava in palestra. un'altra ora di corpo libero e alle 5.00. Alle 7.00 in acqua. Quindi per questo capisci la palestra. Erano più ore di palestra che di acqua. Quindi, cioè, c'è qualcosa. Era un po'... Sì, la palestra è molto importante. Cioè, nel senso mattino c'erano pesi che poi erano a ripetizione tutte le settimane uguali. Cioè, nel senso tutti i lunedì erano quegli esercizi. Mercoledì. Tutti i giorni palestra. Quindi dal lunedì al sabato era sempre così. Molto ripetitivo. Quindi, sempre palestra. Sì, sì, sì. Senti, dicevano prima leggevo sei determinata e con le idee chiare. Sai già cosa vorrai fare da grande? Visto che dicevi. C'era chi scriveva criminologa anche. Ho letto qualcosa prima. Sì, sì. Perché la mia università è a sezione criminologica. Cioè, è mediazione linguistica però è a settore criminologico. Quindi fai gli esami di lingua però ci sono anche gli esami di criminologia together. Insieme. Insieme. Ecco. E quindi, sì, vabbè perché l'avranno scritto. Comunque sì, allora io ho già le idee molto chiare come si può capire. A me piacerebbe assolutamente fare la traduttrice di cabina. Cioè, l'interprete di cabina in realtà si dice però per farlo capire. Quindi tipo non lo so fare traduzioni durante le conferenze e cose così se magari riesco ad arrivare anche a livelli alti ben venga. Ovviamente magari devo specializzarmi in qualche lingua in più anche dopo le classiche però a me piacerebbe fare quello principalmente. Invece se riesco anche a specializzarmi in criminologia se riuscissi a me è sempre piaciuta metterologia in ogni caso però quello forse lo farò con i miei hobby perché non riesco a fare tutto. Invece se è criminologia vorrei continuare in polizia ovviamente perché essendo già in polizia è anche un vantaggio. Mi piacerebbe tipo investigatrice private con le cose lì. rilancio a tutti i corsi per la casa di carta devi vederlo visto che sei criminologa vedrai che ti piacerà poi così col tuo spagnolo sicuramente ti diverti. E senti parlando tornando invece in Vasca perché chiedono di Katinka Ossu dici che quell'allenamento visto che si parla di smestista magari a lei ha funzionato di più perché aveva un certo fisico diverso oppure aveva grandi noti naturali lo conoscerai bene come avversario ovviamente ovvio sei anche come persona quindi no allora devo dire che Shane fa tutto in base a quello che ha fatto con lei nel senso per la sua mentalità è che quello che ha fatto con Katinka funziona per tutti e quindi tu devi andare forte per forza però nel senso lei è una su mille una su mille una su milione un miliardo come lei non c'è nessuno quindi ovviamente ha le sue doti però lei ha trovato il giusto compromesso con lui cioè nel senso si sono trovati perfetti e quindi quel metodo di allenamento andava bene per lei ma questo non significa che vada bene per tutti quanti è quello che non cioè che lui non ha capito secondo me perché lui pensa che quel programma vada bene anche per uno che è uno smilzo che non riesce ad alzare dieci chili e quindi lo fa pompare come un animale in palestra per arrivare in acqua ad essere fermo immobile cioè è una cosa un po' anche quello è un po' un paradosso suo perché secondo me cioè se vuoi essere un vero allenatore dovresti essere capace di adattarti alle caratteristiche di ogni atleta perché ogni atleta è differente quindi puoi venirmi a dire a me alza 100 chili per lei sì magari però per me no un po' di pure connection ancora no no però comunque quello era il discorso il concetto l'abbiamo capito nel senso che ha usato questo metodo sempre con Katinka pensando che poi potesse andare bene per tutti ma non era diciamo adatto a te o ad altri ad altri notatori secondo quello che dicevi tu infatti sì sì chiedevano se qualcosa di Ostia ti manca a parte il caffè dicevano che il caffè non era un gran quel che leggo sì sì conosco bene il caffè di Alessio a me faceva il latte macchiato quindi non lo so il caffè non lo beo cioè nel senso il caffè espresso non lo beo comunque allora di Ostia beh sicuramente la compagnia perché io con i ragazzi praticamente sono sempre stata da sola come femmina perché sono stata solo con Diletta e Martina un po' al primo anno però poi non sono più stata con loro quindi vabbè poi è stata l'Isia un po' un periodo che è stata nell'ultimo anno sì anche lei però insomma era un po' andante avanti e indietro per Milano però io mi sono sempre trovata super bene con i ragazzi infatti sono molto riconoscente anche perché mi hanno insegnato tanto io sono arrivata lì che ero una bambina non sapevo neanche cosa fossero sei chilometri in acqua ovviamente perché quello è il percorso che secondo me bisogna seguire nel senso andare gradualmente e loro mi hanno insegnato tanto comunque mi hanno sempre sostenuta mi hanno aiutata tantissimo e quindi comunque cioè non mi posso lamentare sono stati sempre super bravi con me gentili ci siamo divertiti tanto ho sempre tanti bei ricordi quindi credo che sia la cosa che mi manca di più di ostio vabbè ovviamente al moro però al moro non fa testo perché è l'allenatore quindi allora ringraziamo anche il collega Roberto Parretta della Gazzetta che ti ha fatto questo ricordo di ostia e prima te l'ha fatto anche un'altra domanda senti una domanda ricorrente in questi giorni è stata se tu hai qualche idolo qualche mito a cui ti sei ispirata da piccolino se c'è qualche sportivo che visto che tu sei anche una gira mondo che continua a seguire anche non solo il nuoto diciamo che ti ispira sia dal punto di vista sportivo che mentale e di personaggio allora io non ho saputo niente di sport finché non ho iniziato il nuoto e neanche di nuoto sapevo niente fino a due anni fa perché non mi sono mai informata quindi io ti dico il mio esempio sportivo è Katinka perché ho avuto facendo le stesse istanze eccetera eccetera ho avuto modo di conoscerla di capire come insomma i suoi obiettivi e tutto quanto quindi per me l'idolo sportivo è lei anche se quindi adesso essendo magari un po' più vicina la sento un po' come meno idolo ma più come rivale ovviamente perché essendo fianco a fianco il corsia un po' un po' diverso e invece in generale non ho mai avuto nessuno che mi ispirasse cioè non ho mai voluto cercare di copiare qualcuno o magari copiare cosa stesse facendo qualcuno ma cercare di avere la mia propria personalità il mio imprinting sulle persone quindi non credo di aver mai avuto qualcuno come modello in generale un po' selfish come cosa però potrete capire no no però ci si ecco invece chiedo a proposito proprio di te qual è stata la tua prima nazionale assoluta e quando? allora se vogliamo parlare in generale quindi scorta e lunga è stata la mia prima nazionale assoluta è stata a Netanyah negli europei masca corta nel 2015 avevo appena compiuto 16 anni però è stata vabbè nel senso la prima esperienza quindi un po' come tutti cioè vai lì più che altro per capire come funziona il mondo al senso non per tutti perché c'è gente che ha la prima esperienza vince la medaglia olimpica e non per dire però nel senso per me i comuni mortali è stata insomma mi sono divertita anche perché comunque ero condiletta che io conosco già da tanti anni quindi comunque ho avuto anche una buona compagna che mi ha aiutata a inserirmi un po' a integrarmi nel gruppo della nazionale diretta a Carli sto dicendo poi anche le chiamme oro quindi esatto beh sì mi sono divertita quindi è stata un'esperienza per capire insomma come funziona il mondo dei grandi ecco invece la prima nazionale assoluta in vasca lunga quindi ufficiale con la matricola con i capelli gialli shining è stata a Londra nel 2016 agli europei ecco e quindi è stato un po' è stato un po' brutto l'ho vissuta un po' male diciamo perché mi sono andata la settimana prima di partire quindi sono arrivata lì che non mi allenavo da una settimana e cioè capirai cosa ho potuto fare invece vabbè insomma però ci chiedevano se ti ricordi il primo tempo che ti ha fatto andare a Riccione che era anche che Riccione è sempre diciamo un po' il mondo dei grandi e gli assoluti esatto agli assoluti allora io ho iniziato a nuotare nel 2011 non nuoto proprio nuotare con gli agonisti ed ero categoria no ero ragazzi non mi ricordo se ero se erano vabbè il primo anno dei ragazzi che mi sono prese da monocleosi e mi sono spaccata un gomito su un pullman non si è fatta mancare niente quindi il primo anno cioè io non lo contavo neanche comunque vabbè mi sono qualificata i miei primi assoluti li ho fatti praticamente il secondo anno che ho nuotato e ho fatto i Centorana quindi sì Centorana è stata la mia prima gara degli assoluti non mi ricordo il tempo però sì Centorana prima dicevi appunto di Katinka chiedevano a parte lei c'è qualche rivalità particolare con qualche atleta cioè rivalità ovviamente sportiva che senti proprio la gara devo batterla allora no diciamo di no cioè nel senso io sono una molto friendly che fa tante amicizie per chiamata scherza come dicevo prima sono una che parla tanto dà fastidio alla gente tra virgolette però cioè nel senso mi piace avere più le amiche con cui nuoto non le nemiche quindi non è che io c'ho una ci sono tante con cui non parlo cioè che non parlano con me perché non gli va prima della gara vogliono stare zitta in silenzio diciamo che sono più le vecchiotte che lo fanno non parlo nell'ambito nazionale ma nell'ambito internazionale qui però nessuno cioè non ho rivalità con gente io ti dico c'ho tante amiche amiche amististe quindi non cioè amiche sono conoscenti non è che ci faccia le vacanze estive con le amiche della nazionale però no non ho rivalità senti c'era 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 anche una ragazza della nazionale paralimpica Xenia Palazzo che ti augura buona Pasqua e Pasquetta chiedeva forse sei collegata dopo che oltre ai misti quali gare hai fatto nella tua carriera praticamente tutte da quel che dicevi prima ad alto livello comunque più o meno tutto sì 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 ho fatto tutte le gare del programma credo l'unica che non ho mai fatto sono i 1500 anche se mi sono allenata con il Mora ma non ho mai fatto i 1500 ho fatto solo gli 8 e mi piacciono anche gli 8 stili devo dire che sono una bella gara però non ho mai non ho mai fatto mancare una gara quindi magari i 50 si rifaccio occasionalmente perché vabbè non so fare la partenza non so fare le virate cioè capisci anche poverina io cioè però no il resto ho sempre fatto tutto non ti sei fatto mancare niente se ti dicevano si sono persi a quanti anni avevi quando hai fatto i primi assoluti che dicevi prima 2013 quindi avevo ancora 13 anni perché faccio gli anni a fine anno quindi 13 anni invece dicevano con Margherita le vacanze le hai fatte assolutamente l'anno scorso siamo andati ai dizio insieme possiamo divertire tanto lei poverina si è distrutta anche una caviglia per rincorrere un ladro ecco quindi sì vabbè ci hanno rubato lo zaino praticamente in un in un open space quando siamo andate a farci le unghie è entrato un tizio però nessuno sapeva niente e tipo dopo 5 minuti era sparito il mio zaino dentro avevamo tutto patenti io c'era vabbè carta d'identità chiavi della macchina noleggiata chiavi dell'hotel tutto cioè tutto se mi rubavano lo zaino eravamo finite arrivavamo di vizza praticamente e quindi lei percorre dietro al ladro che era scappato in macchina si è buttata sulla sua macchina è caduta si era slogata una caviglia però niente si è ripresa subito per fortuna e la criminologa come se l'è cavata sei riuscita niente il ladro ha preso lo zaino dalla macchina ha inchiodato perché ha tagliato la strada a un camion quindi ha inchiodato la macchina l'ha preso l'ha buttato fuori sulla strada e l'ha andato dritto per fortuna non c'è successo niente però con le vacanze sono state un po' sfortunate perché ci sono capitate tutte però vabbè se di Xenia ti aveva poi risposto diceva ai 1500 no peccato che bella gara anche se faticosa quindi vedi magari li proverò tanto con Moreno comunque faccio fondo quindi non è esatto quindi ti farei chiudere con questa curiosità cioè un ragazzo di 15 anni dici che ci può credere ancora a fare un buon risultato nel nuoto tu che diciamo hai sempre trovato le motivazioni anche nei momenti difficili sì secondo me non c'è mai un'età cioè nel senso ovviamente se hai 25 anni non è che ti puoi mettere e non l'hai mai nuotato non è che ti puoi mettere a pretendere vincoli olimpiadi però 15 anni poi soprattutto un ragazzo sei ancora un bambino tra virgolette non per cattiveria non per piccolo però c'è ancora tempo di crescere e tutto quanto quindi ovviamente se ti metti e hai le capacità non vedo perché mollare quindi ovviamente si può ancora Senti sperando di tornare a viaggiare presto Roberto Parretta rilanciava ancora se tornerai a fare i campionati brasiliani ovviamente ti piacerebbe io sì ovviamente infatti quest'anno aspettavo che mi invitassero però ovviamente dopo con tutto il casino e il successo da gennaio poi non hanno più fatto niente però sì anche perché la squadra in cui sono stata ha detto che mi aspetta presto anche perché l'anno scorso ho fatto 18 gare se mi inviti è tutto a fare esatto e quindi sì io spero di tornare perché mi sono divertita tantissimo poi lì bellissima ah non ho fatto le Olimpiadi le ho fatte due anni dopo quindi magari li provi lì 1500 che hai fatto 18 gare eh appunto tanto non c'è mai il limite alla disperazione senti l'aria è stata gentilissima volevo chiederti l'ultima l'ultima ricordarsi la cuffia del Flamengo dicono stavolta vediamo se ci sei ancora sì dicevo esatto dicevo l'ultima l'ultima curiosità che cosa cosa ti piacerebbe la prima cosa che ti piacerebbe fare appena finisci la quarantena cioè sperando che al più presto ti torni un po' un po' alla normalità visto che ci sarà ancora un po' da aspettare eh sì ce n'è ancora un po' da aspettare però io sicuramente spero di tornare a nuotare il prima possibile perché no non ci sarà ancora ferma nel senso comunque è passato tanto tempo e ne passerà ancora prima che torni a nuotare quindi spero che sia la prima cosa che faccio appena torno e poi non lo so mangiare qualcosa di ma non so andare in un ristorante sfondarmi di sushi o qualcosa di qualcosa di buono cioè andare anche fuori e mangiare magari per dirti non so però sì le piccole poi vedere i miei amici ovviamente perché mi mancano tantissimo che è una vita che non li vedo tragare tutto quanto veramente quest'anno non li ho visti tanto da inizio anno quindi spero di vederli anche loro presto un gelato a pistacchio dice Silvia Scapol anche una fontana di pistacchio va bene ecco abbiamo beccato abbiamo toccato il nervo scoperto sono golosissima io cioè dolci poi pistacchio va bene ne parliamo mangio di tutto senti chiudo col ringraziamento perché diceva Lollo Cassi non si vede tutto lui dice mi piacerebbe arrivare agli assoluti con i 50 stili quindi ti ringrazio per la sua motivazione che gli hai dato speriamo speriamo che anche lui riascendi il suo sogno senti Lari allora grazie mille ti aspettiamo nelle prossime dirette se ti fa piacere con le tue domande certo ovviamente buono studio e buon relax visto che sei sempre in giro a nuotare almeno puoi dedicarti un po' anche a riposarti un attimo sì dai ogni tanto di riposo yoga è rilassante grazie comunque grazie mille ci vediamo presto buona serata a presto ciao 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 ciao